Sì, diciamo, non voglio parlare troppo di mestiere. No, vuol dire che conoscire il personaggio per capire che sono un po' tifoso di caso, che ho visto prima con Trevisanello. Sì, abbiamo familiarizzato. Mi ha regalato questa bellissima colanina che io espongo come vanto. Ah, sì, sì, Trevisanello è arrivato qui con tutte le colanine, anche a me ne ha regalato. Mi ha regalato, perché lui dice alla sera mentre guarda la TV, è vero? Mi ha regalato, mentre guarda la TV. E' creativo anche nell'ultima settimana. Mi ha regalato, mi ha regalato, mi ha regalato. Allora, cosa hai portato a X Bolo? Allora, a X Bolo ho portato praticamente un'esperienza vissuta prima sulla rete, sulla grande rete di internet, e tradotta poi nella realtà con un'uscita, diciamo, una richiesta di appuntamento al cui ho dato una sconosciuta che mi incuriosiva, a cui io dopo, tramite l'uscita, ho dato un volto, un nome e un cognome. Perfetto. Voi vedete che Gio... Sì, magari Gio... Hai il testo, però. Sì, sì. Ecco, perché sennò senza il testo... Ecco, non è Gio, così ti può aiutare il testo, perché... Perfetto. Cioè che hai sei minuti di tempo, ma sei sei minuti. La luce è un po'... Posta via. Ecco, ti ha scritto la luce, hai scritto in B. Ah, ma trovo bene! Il caratteremo... Toromelli, ormai è Toromelli, perché non è più... No, se no non ci sta... Sì, sì. L'attacchiamo un po'. L'attacchiamo un po'. Quello spunto, cosa sta cominciando? Va bene. Allora, ha un titolo? Ha un titolo. Tutte le strade portano a Bo. Bo? A Bo. Prego. In chat parlava solo di soldi e di sesso, sboccate e volgare come una zocca. Ma quando la incontrai, mi accorsi che era una baragazza. Si chiamava Sara Gozza. Era proprio un bel sandonnino, con due stivali fino al ginocchio da Cavazzona, ma a Cavazzon Donato non si guarda in bocca. Era di origine persicetana, con un taglio d'occhio a cade mandorli. Aveva un fisico eccezionale. Portava una decima. Quattro castella superiore alla mia ex, che comunque aveva una sesto imolese. Non immaginate che impresa darle un bacio. Tutte le volte dovevo scalare due monghi d'oro. Altro che badolo. Amava il kebab e la cucina. Una vera madonna dei fornelli. Mi ricordo come fosse ieri, il giorno del nostro primo incontro. Arrivai pulitissimo dopo un bellavino di sopra, di sotto e di mezzo. E profumatissimo col mio... Eramon di tizanon. Puron. Mi presentai fighettato come un poggetto, puntualissimo col mio castello di Casio d'argento al polso, passo l'ongana e sguardo al te. La portai in uno dei peggiori bar di Bologna. Il bar gelino. Per un aperitivo alla Marenaca de Fabri con due olivette e un campolo. Ma il bar era talmente piccolo che sembrava di stare dentro una baricella. Così emigrammo l'angosteria grande. Peccato ci fosse una gran ressa. Era l'argelato dei. Ed erano già finiti. Sia il cornetto alla crema che il corno alle scale. Così evitavamo per un copparo con mascarino, mascarella e frutti di bocco albergati. A seguire, un piatto di tortelloni, bodri e salvaro, ad una tagliata di cerga, innaffiata col vino della casa, un insuperabile ronco bilaccio doc, più mezzo l'ara ad agonatura. Tra una porta san felice e l'altra, raccontai un pari di barzellette un po' spinte. Sara. Sara. Aspetta, Sara. Non c'è accidenti a te, Sara. Scoppiò a ridere forte come un bagnacavallo, tanto che per frenarla la tirai per un funo. Non l'avessi mai fatto. Nel rinculo mi sono beccato una pacca così forte che mi è venuto un vernio al disco. Per dessert ordinamo una fetta di torta dell'annantola, un marzabotto e un giro finale di un capistoiese offerto dalla casa. Alla richiesta del conto, Sara, che abbia anche involto, si sentì un po' casteldevole e si precipitò di corsa in bagnarola, dal quale subì impercettibilmente una mitragliata di correggio. Così, per caso di Forza Castelmaggiore, mi toccò assaltare il conto salato e neanche un po' sabiuno. Nel mentre, fuori dal locale, ci viene incontro un tipo dall'area Monteveglio. Un filo di barbarino in volto, pulbo crespellato, con un rastignano legato ad una guiglia che mi fa... Oh, che bello! Tutto a posto o ti serve una porretta? Oh, gran masano, eh! Roba di prima! Tutto a posto, ma sai, con la crisi per risparmiare, io vado solo al centro grosso. Ah, va bene, ma ce l'hai una carteria? Longarola? Insomma, per scolarmelo di dosso, andai lì in sgomma con il mio Subiana, Vittoria Station Lego, e cerca di un posto tranquillo, senza essere distubbati da qualche sbandato, qualche pilastrino, magari armato, mi lamano con lui. Le proposi di imboscarci a San Michele in Bosco. E lei mi fa, ho i capogiri, soffro di vertigini. Quindi le si prospettai una sera mazzoni. Ma obiettò... Montiacuto, ragazzo! Ma ci sono i zanzare! E ribattè... Una villanova, no? Ha più appil! Eh, eh, Montiacuto, ragazza! Avrà anche più appil! Ma io non ho la pilla! Così optemmo per uno squalido malalbergo di periferiva famoso per essere stato un tempo caso la Valsegno Lupin. Sala era una modesta stanza con tavernelle, un'umida sala bolognese. All'esterno, nel corridoio, si trovava un tipico gesso bolognese, palaroma di muffa. Sala iniziò subito a spogliarsi, avvertendo un certo calderino, mentre la mia vista era già annebiata come una notte d'inverno triste a calderare. Ah, che corpo panoramico! era proprio un lizzano in Belvedere. All'orecchio le sussurrai... Sala! Marradi! Marradi! E lei, fretta... Ben ti voglio! Aveva un sederino a forma di mongardino, e sul fondo schiena un tatuaggio, dove era vergato piano del voile. Nel dubbio appoggiai la marmorta sul suo nobile quarto inferiore. Lei rispose con un mordano al mio spinamberto. Ah, e su, c'mel! Con lei di dolore dal profondo del mio monte Budello. Avevo rischiato di essere castro caro dalla sua lussuriosa bocca di rin. Insomma, i preliminari furono lunghi e dolorosi, come un pragatto attaccato al sasso marconi. Ma alla fine facciamo l'amore almeno una sestola di volte, gridando all'unisolo e all'usignoro Godo! 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 Ah! Udito anche da San Lorenzo in collina, che preoccupato venne giù a vedere cosa fosse successo. Tollè! Amolà! In tale clima di lodo voleto, ci scambiamo un Cinque Cerri, come due vincitori della finale miglia, celebrato alle luci dell'alba, dal suono di un cantagallo. Grazie! Grazie! Grazie!